Uomini e donne, Carola rompe il silenzio sulla prima dedica d'amore dopo il sì. Carola rompe il silenzio sui social dopo la scelta finale trasmessa nel pomeriggio del 16 marzo a Uomini e Donne e si mostra insieme a Federico. La giovane corteggiatrice del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ha pubblicato il primo contenuto che la ritrae insieme al suo nuovo fidanzato. Con tanto di dedica speciale che non è passata e inosservata. Un gesto che ha entusiasmato i fan della coppia Carola-Federico, che a questo punto si augurano di poterli continuare a vedere felici insieme per tanto tempo. Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la scelta finale del tronista Federico Nicotera. A distanza di sei mesi dall'inizio della sua avventura in studio, Federico ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Carola che gli ha risposto sì. Inizia così una nuova storia d'amore e subito dopo la messa in onda Carola ha avuto modo di postare anche la prima foto social che la ritrae insieme al suo fidanzato. Carpinelli ha pubblicato uno scatto che non è affatto passato inosservato tra i fan social. Il quale conferma l'ottimo feeling tra i due. Sei vita, grazie, ha scritto Carola nella sua prima dedica d'amore social pubblicata per Federico. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne su Canale 5. Poche parole, chiare e dirette, con le quali la ragazza ha confermato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Dopo che in questi giorni si erano rincorse già delle voci legate a una possibile crisi in corso. Dopo registrazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi dedicata alla scelta si era vociferato che ci fosse già un po' di maretta tra i due fidanzati. Voci che tuttavia sono state prontamente smentite da Carola con questa dedica speciale d'amore che ha voluto fare al suo fidanzato. Una scelta in parte annunciata, dato che in questi ultimi mesi Federico aveva mostrato un particolare e forte interesse nei confronti della corteggiatrice 21enne. Che alla fine ha saputo far breccia nel suo cuore. Nel corso della registrazione della scelta, Carola ha avuto modo di conoscere anche le due donne fondamentali nella vita di Federico, mamma e sorella. Entrambe hanno gioito con lui per la scelta finale e si sono dette felici della decisione presa dal ragazzo. Pronto a vivere la sua relazione con Carola fuori da uomini e donne. Grazie. Grazie.